Questo è un intervento di risanamento di reti fognari e vetuoste. Ginosa è stata interessata anni fa dagli eventi alluvionali che hanno distrutto parte del centro storico. Quindi noi come Acquedotto Pugliese stiamo risanando le reti fognarie che avevano problemi. Dove andiamo a rifare completamente, andiamo a sostituire i vecchi tronchi fognari, i pozzetti, gli allacci. Altre strade già sono state interessate da questi lavori di rifarcimento e continueremo su altre strade. Qui siamo nel centro storico di Ginosa, esattamente in Piazza Vecchia, e vediamo che abbiamo risanato i tronchi presenti nell'intera piazza e i relativi allacciamenti. Il ripristino della pavimentazione in basolato è stato realizzato da Acquedotto Pugliese, la perfetta regola d'arte.